Questo è quello che sono io, quello che sono realmente io, la mia parte più interna che ho imparato a non mostrare mai. Truccarmi mi permette di esprimere me stessa, la mia creatività, il mio gusto, la mia vera essenza. Proprio per questo siete e sono abituata a vedermi truccata sempre molto poco, se non struccata. Perché paradossalmente quella è la mia maschera. Si tratta di avere paura del giudizio altrui, di aver sofferto tanto e non avere più il coraggio di mostrarsi per quel che si è. Ma io oggi ho imparato ad amarmi e a mostrarmi per quel che sono. Questo trucco e questo colore mostrano la me più vera che ci sia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.